terza serie 50 stelle libero assoluti alla partenza dalla 2 alla 7 Gerosa Parma Alborghetti Ghidini Zanni Gaic siamo già alla vasca di ritorno con la prima serie 50 stelle libero Junior abbiamo tre atleti sulla stessa linea dalla 3 alla 5 andiamo a vedere chi la spunta Andrea Spusetto 23 e 72 su Lorenzo Menegaldo 23 e 87 Filippo Biasin terzo e primo del 2002 23 e 88